E poi è legato anche a Gabriele Sandri, perché non sa che c'entra che cambia mica bene. Poni il fucile, a canne e motte, stavo pulendo, stavo pulendo, vedete che dovevo presentare, la rifacciamo l'ultima volta. Poni il fucile, a canne e motte, quando inavvertitamente, mi è partito un colpo, l'ambulanza che passava di lì, ho centrato. Colpendo la fiancata, posteriore e sinistra, efferendo ulteriormente il paziente. L'infermiere mi disse, tranquillo, quello non se ne è corto, forse quando saremo là, sarà già morto. Ma la volante che passava di lì, si fermò. Documenti, accertamenti, male, precedenti, importanti. Poni il fucile, a canne e motte, ancora fumante, comprai due tartine e due salettini. Al comandante, il sergente che passava di lì, apparecchio. Tovaglioli e bicchieri, e stappando, lo spumante, il più scadente. Il tendente mi disse, tranquillo, il caso mai è risolto. Mi mise il fucile, in mano al morto. Il fucile, in mano al morto. Antonio Benassi grazie mi piace ma non fa anche in che se succedono delle cose che non va mica bene ma va bene pazienza questa è una canzone così è per questo che abbiamo discusso anche ma no ma lo vedi e invece è una canzone che deve essere sentita come hanno fatto i boys insomma che hanno denunciato questa cosa qua di Gabriele Sandri che è una cosa che sta sul bali e cosa c'è di canzoni adesso da fare